I campioni della SSC Napoli arrivano in edicola in una imperdibile collezione, la nuova edizione delle Action Figures. I calciatori azzurri e il mister Rafa Benitez ricreati in nuove fantastiche miniature, più alte e più realistiche. Inizia la raccolta settimanale e in omaggio riceverai la prestigiosa scatola da collezione con il campo da gioco.